Da Vella è già festa e trovi la fantastica vendita appinata di Natale. Fai un acquisto, spendi almeno 199 euro e potrai avere la coperta che si indossa a solo 1 euro, il forno al microonde a 19 euro o la fantastica caffettiere espressa K a 39 euro. E se vuoi puoi anche pagare in 15 commoderate con zero interessi, zero spese di commissioni e paghi da maggio 2012. Vella lo trovi a Favara in via San Bartolomeo ed aggrigendo al villaggio Mosè. Grazie a tutti.